Ed eccomi pronto per una nuova avventura viandanti, la mia prossima destinazione è Novara, precisamente Orfengo di Casalino. Gironzolando il lungo e largo per il Piemonte mi sono imbattuto in questa fantastica location, il Motel Piragna, un luogo unico ed insolito, in quanto ogni camera di questo luogo ha una propria caratteristica e una tematica che la caratterizza. In questo video vi mozzerò alcune delle più belle camere di questa struttura. Allora, questo qui è il parcheggio 50, adesso entriamo dentro e da questo parcheggio potete accedere direttamente alla vostra suite, alla vostra room. Tutte le suite e junior suite hanno un parcheggio privato con ingresso elettronico tramite K-Card, un'accortezza in più per proteggere sia la vostra privacy che il vostro autoveicolo durante la permanenza al motel. La suite Wildness del Motel Piragna è indicata a tutti coloro che sono affascinati dai misteri aztechi e alle antiche culture magiche del Sud America, un arredamento curato nei minimi particolari caratterizzato dai minuziosi dettagli. È un ambiente talmente realistico che vi sembrerà di vivere le magnifiche atmosfere precolombiane. Questa suite ha il suo plus nella piscina, la quale si apre sul rigoglioso giardino privato, per poter godere anche all'esterno momenti di pura serenità e riposo. Ditemi che questa stanza azteca non è bellissima. In questo momento ci troviamo in questo piccolo angolo di paradiso a bordo piscina e adesso vi farò scoprire la particolarità del Motel Piragna. Uno sfizioso aperitivo composto da frutta fresca e moe, su un originale vassoio galeggiante allieterà il vostro soggiorno di puro benessere. La piscina è collocata all'esterno della camera, che d'inverno viene riscaldata fino a 35 gradi, per garantire il massimo del relax e il fior all'occhiello di questa incredibile camera. Infreschiamoci un pochettino con questo bello fresco e diamo un po' di botte di vita in questa giornata. Un ambiente intimo da godere in tutte le stagioni, sia pure una fresca pausa dall'ursura dei mesi estivi che un momento di quiete per un brindisi sotto le stelle in pieno inverno, coccolati dal calore dell'acqua riscaldata della piscina. Sono certo che questa camera soddisferà le esigenze anche dei più pignoli e sarà all'altezza di ogni vostra aspettativa. La camera, oltre a disporre di una jacuzzi di grandi dimensioni, possiede anche un haman, sauna, doccia emozionale con cromoterapia e il maestoso letto King, che concilierà il vostro riposo notturno. Se la tua passione è l'antico Egitto, allora la royal suite tematica Tutankhamon ti porterà nel suggestivo mondo esotico di Cleopatra e dei suoi faraoni. Un viaggio emozionale attraverso la sensualità di questo seducente impero. Per gli egiziani la bellezza e la cura del corpo hanno sempre avuto un ruolo fondamentale. Il benessere era considerato una valenza non solo curativa, ma anche spirituale e religiosa. Infatti il corpo era considerato il luogo sacro, la casa dell'anima immortale. Sfumature dorate, affreschi, geloglifici, all'interno di questa room troverete il massimo del comfort. Si accede alla suite tramite un garantito parcheggio con ascensore privato, per assicurare la giusta privacy. Da lì accederete ad un ampio soggiorno con tavolo da pranzo, con apertura nella zona letto in cui troverete due maestosi letti King, ideali per soggiorni fino a quattro persone. La suite ha una vera e propria spa privata, con vasca idromassaggio circolare, bagno, con doccia e sauna. Relax assicurato anche nell'ampio terrazzo privato, ideale per una colazione all'aperto o una romantica cena privata al nome di candela. Verrete trasportati in un ambiente da sogno, all'interno di un locale di circa 120 metri quadrati, l'occasione ideale per fuggire dalla frenetica routine quotidiana e concedersi una pausa romantica con chi si ama, circondati dal lusso di una strepitosa suite tematica in grado di soddisfare tutte le esigenze. I colori vivaci di questa camera vi trasporteranno immediatamente nelle calde isole caraibiche. Avvertirete fin da subito quasi la sensazione di vivere all'interno di galeggianti palafitte, nel bel mezzo di mari tropicali e lagune incantate. Anche gli eleganti arredi degli interni fanno la loro parte e caratterizzano la suite tematica Oneness Playa Bonita. Gli ospiti di questa suite inoltre godranno del privilegio di avere a disposizione una vera e propria piscina riscaldata, il cui accesso mediante la camera da letto prosegue fino all'ussureggiante giardino privato, un'area in cui il verde si sposa con il blu del cielo e le luci colorate che enfatizzano l'area circostante regalano momenti di puro benessere. Un vero angolo di paradiso dove ammirare magnifici tramonti accompagnati da cocktail squisiti. Gli antichi romani lo sapevano da sempre, mensana in corpore sano. Un vero soggiorno da sogno passa anche attraverso l'acqua e la cura del proprio corpo. Questo è il motivo per cui molte delle suite di questa struttura hanno al proprio interno delle vere e proprie spa private. Il termine spa, dal latino salus per aquam, significa trovare la salute e il benessere grazie all'acqua e alle sue proprietà. Anche la Royal Suite Domus Aurea offre al suo interno una vasca idromassaggio circolare, sauna finlandese e doccia cromatica. Un magnifico viaggio nell'antico impero romano. Lui è Alfred, il maggiordomo robot. Sulli incontri non dimenticare di salutarlo, saprà risponderti con la sua faccina simpatica e allegra. Soggiornare al motel Piragna non è solamente trascorrere una notte di relax, ma anche poter godere delle creazioni dello chef. Non rimarrete delusi dalla sua arte culinaria. Allora, viandanti, che dire, questo motel è spettacolare in tutte le sue forme. È bellissimo perché è curato in mani in particolare. È come fare un salto tra un tempo e l'altro. Ovviamente io ho scelto la camera asteca perché amando il Sud America è quella che mi rappresenta di più, però ogni camera ha la sua caratteristica. Ero quasi incerto a scegliere la camera Eldorado perché comunque rappresenta per eccellenza il viaggiatore, l'esploratore, però alla fine ho scelto questa bellezza qui, nel suo massimo splendore, soprattutto Wildness, perché è piena di comfort spettacolare. Le camere del motel sono suddivise per prezzo e area tematica. Royal Suite, Wildness Suite, Top Suite, Suite e Junior Suite. Motel Piranha, un soggiorno di luce e di benessere per un momento esclusivo e indimenticabile.